Ciao a tutti amici di Nexus Lab, sono Alessandro e finalmente vi proponiamo la nostra video recensione del Nexus 5 l'abbiamo provato per una settimana, una settimana e mezza, avete già potuto leggere la nostra recensione scritta e adesso andremo ad analizzare con questa video recensione nel dettaglio tutte le caratteristiche sia di questo nuovo telefono sia di Android KitKat essendo questo il primo device con ufficialmente a bordo la nuova versione di Android è giusto analizzarla, anche questa nel dettaglio questa è la confezione di vendita in stile azzurro, cambia rispetto allo stile grigio dell'anno scorso dove avevamo sia un Nexus 4 che un Nexus 7 con confezioni di dimensioni simili ma di colorazioni diverse come potete vedere già sulla scatola è impresso la colorazione del nostro Nexus 5 che è bianco e nero questa volta Google ha deciso di commercializzare il Nexus 5 già subito anche in versione bianca vediamo se riusciamo a sfilarlo, l'abbiamo sfilato fino a due secondi fa sia in versione bianca sin dal lancio, quindi non ce lo siamo fatto sfuggire, abbiamo voluto cambiare visto che noi in Nexus riprendiamo sempre al lancio, non abbiamo mai potuto prenderlo diversamente dal nero all'interno cosa troviamo? troviamo questo specchietto che ci illustra come togliere lo slot per la micro sim troviamo all'interno incastonato in questo foglietto, adesso purtroppo non riesco più a trovarlo troviamo anche la punta per sfilare lo slot sotto vediamo un altro foglietto illustrativo molto essenziale che ci illustra in questo caso alcuni aspetti generali, molto generali del telefono abbiamo l'NFC sulla parte posteriore, il bilanciere del volume sulla parte sinistra, il connettore USB sotto la scheda micro sim a destra e il tasto di spegnimento e accensione inoltre vediamo anche come abbiamo questo specchietto che ci illustra come collegare lo smartphone alla presa di corrente sicurezza e garanzie, qua abbiamo la garanzia, garanzia che è di LG LG gestisce direttamente il device in Italia essendo suo lo smartphone andiamo ad aprire la parte sotto, il caricabatterie ce l'abbiamo già collegato a muro, il classico quindi non abbiamo fatto neanche che toglierlo, non ci sembrava neanche il caso intanto alla fine è sempre il solito vi volevo solo mostrare come appunto la scatola rimane vuota senza il cavo micro USB e USB visto che non abbiamo un auricolare un auricolare neanche incluso cosa che da due anni che Google porta avanti rendendo essenziali gli accessori inclusi in quei suoi Nexus purtroppo noi troviamo che un auricolare avrebbe dei costi in più per Google talmente infinitesimali che non ha senso non inserirlo all'interno del proprio dispositivo allora andiamo a scoprire il nostro Nexus come detto versione bianca bianca e nera perché Google tende sempre a voler variare un po' lo stile con questa versione bicolore device che aumenta di dimensioni ma neanche più di tanto rispetto al 4 infatti la cornice è meno pronunciata e invece gli angoli sono più ad angolo retto quindi le dimensioni di 137x69x8.59 mm non sono eccessive anche se voi abitualmente lo mettete in tasca quindi se siete spaventati dal passaggio dal 4 al 5 anzi magari ve lo mostro un attimo qua abbiamo uno dei nostri 4 come potete vedere sono praticamente identici anzi forse leggermente più spesso il Nexus 4 a livello di peso ottimo lavoro qua è stato fatto da LG infatti abbiamo solo 130 grammi di peso veramente un piacere tenerlo in mano si va a perdere inoltre anche il vetro posteriore per una plastica rigida di ottima qualità abbiamo anche questa scritta Nexus scritta in grigio su sfondo bianco come il logo LG molto carino in più Google ha deciso di inserire il sensore della fotocamera forse anche per una questione di spessori in questo cerchio di vetro leggermente più grande carino forse senza il cerchio si avrebbe avuto un effetto più minimale ma non dà assolutamente fastidio poi abbiamo il flash LED classico che troviamo su tutti i nostri device parte frontale come detto leggermente più netta netta soprattutto anche dove? sul bordo abbiamo praticamente un bordo qua molto più tagliente sul Nexus 4 questa parte del vetro il vetro continuava sul bordo e lasciava una sensazione tattile migliore una piccola critica che si deve fare ma naturalmente nulla va compromesso per questo dettaglio parte sinistra e parte destra troviamo dei tastini in ceramica molto ben fatti il feedback con questi tasti è migliore rispetto già al 4 è un vero piacere digitarli non si ha nessun problema come potete vedere nella versione bianca abbiamo la retina che copre la capsula auricolare dello stesso colore della parte posteriore un'aggiunta carina a me sinceramente piace questo tono di bianco in tutto questo nero che abbiamo di fronte non sparisce il led di notifica sempre qua nascosto mentre nella parte bassa troviamo il connettore micro usb per caricare lo scambio dati e poi due piccole griglie che una nasconde l'altoparlante di sistema mono quindi la doppia griglia non significa che abbiamo uno stereo purtroppo mentre l'altra griglia nasconde un microfono per la soppressione dei suoni scusate un microfono per la cattura dei suoni mentre sopra abbiamo un piccolo buchino non so se lo notate per invece la soppressione dei suoni inoltre abbiamo anche il classico jack da 3,5 mm per le cuffie auricolari che vi ricordo non sono incluse passando invece all'ergonomia ergonomia che a mio avviso il Nexus 5 è meno scivoloso del 4 pur perdendo i bordini gommati i bordini gommati che vengono sostituiti da una plastica normalissima come detto poi un profilo piuttosto netto per il resto i 130 grammi sono un piacere e la batteria forse è stata alimentata proprio anche per questo per mantenere un peso sotto la media e sotto le aspettative hardware intanto vi sblocco il telefono a livello hardware invece abbiamo forse il meglio che adesso i topi di gamma possono offrire abbiamo un display da 4.95 pollici IPS full hd veramente ben fatto adesso per la video recensione ho impostato la luminosità al minimo perché se la alzo troppo voi non vedete più niente però vi posso assicurare che è un vero piacere per gli occhi a livello hardware poi troviamo il classico snapdragon 800 che ormai accompagna tutti i top di gamma recenti che probabilmente accompagnerà anche i futuri top di gamma della prima metà o primo quarto o almeno primo trimestre del 2014 anche perché Qualcomm non ha ancora annunciato niente e lo snapdragon 800 sento per ora ancora delle prestazioni assolutamente interessanti come detto chi conosce i device nexus di ultima generazione sa che non hanno più il supporto per le micro sd manca lo slot abbiamo solo lo slot appunto per le micro sim qua sul lato quindi dovremmo attentamente scegliere che versione acquistare se da 16 a 32 giga dato che questa memoria non potrà essere espansa con un'altra memoria fisica ma solo attraverso cloud quindi saremo soggetti alla nostra disponibilità della connessione quindi al nostro abbonamento dati eccetera che in Italia non sono ancora peraltro molto generosi quindi per alcuni la versione 32 giga potrebbe essere necessaria un piccolo un piccolo neanche troppo dettaglio che purtroppo per alcuni può essere una discriminante sull'acquisto di un nexus o meno ultima nota sull'hardware abbiamo i 2 giga di ram classici niente 3 giga ma sinceramente assolutamente sufficienti questi 2 giga in tutte le operazioni che abbiamo svolto andiamo a parlare un pochino poi ritorneremo anche in parte sull'hardware del nuovo lancer della nuova versione di Android KitKat come potete vedere è cambiato il lancer abbiamo un lancer che è molto più Google Now centrico infatti nella ultima home a sinistra non avremmo una home una schermata classica ma avremmo Google Now una nuova scorciatoia che ci consente di avere accesso a delle informazioni personali l'assistente personale di Google purtroppo sappiamo che in italiano nel nostro paese ci fornisce poche informazioni come potete vedere noi in automatico adesso abbiamo solo 3 informazioni le azioni l'andamento delle azioni giornaliero il che tra l'altro non so come mai non sono queste le nostre azioni in questo momento si deve essere un secondo rifasato inoltre qua abbiamo le previsioni meteo di qua a 4 giorni questo molto utile ma niente di particolare e poi forse la funzione su cui Google ha spinto di più maggiormente abbiamo la la gestione dei punti di interesse tipo dove lavoriamo casa eccetera eccetera ci viene proposto a determinati orari a seconda delle nostre abitudini già il percorso già il navigatore pronto e già il traffico verso quel punto cliccando sulla bacchetta magica potremmo vedere cosa in questo momento Google Now ha in pancia come potete vedere ha in pancia diverse nostre informazioni due luoghi tutto il resto azioni eccetera purtroppo anche qua siamo un po' limitati la schermata di Google Now è anche disattivabile disattivando appunto Google Now si va sulle impostazioni si disattiva si disattiva Google Now disattiva un attimo come potete vedere andando a sinistra non ritroveremo più la schermata di blocco di scusate di Google Now accetto adesso ci ripropone tutta la manfrina e adesso dovrà risincronizzarsi con i server di Google per offrirci le informazioni relative visto che avete già notato questo menu ne parliamo subito questo è il nuovo menu che si ottiene tenendo premuto il dito su una delle home screens praticamente si avrà la gestione degli sfondi piuttosto classica abbiamo tutti gli sfondi in questo singolo menu cosa che sinceramente avrei preferito la divisione tra sfondi animati e sfondi normali ma Google ha preferito unificarli widget scorciatoio dei widget che è segregata unicamente a tale percorso non c'è più nel drawer per il resto la schermata è rimasta uguale tranne la trasparenza di fondo come potete vedere non è più nero ma abbiamo lo sfondo che ci accompagna anche in questo menu impostazioni impostazioni di Google Now come vi ho fatto vedere in precedenza parlando di trasparenze avrete notato avrete anche già letto che Android KitKat presenta più trasparenze degli elementi grafici dell'interfaccia infatti abbiamo una tendina che diviene trasparente quando non viene premuta stessa cosa per i tasti di sistema come potete vedere rimangono trasparenti in questo caso poi su alcune applicazioni a seconda dell'applicazione questi diventeranno o neri o scompariranno questa modifica assolutamente ben accetta serve a sfruttare a pieno schermi così belli così ampi e con sfondi che cerchiamo sempre di mettere in risalto quindi assolutamente una una modifica apprezzabile tutto questo sforzo anche della trasparenza del drawer come potete vedere drawer che non cambia a solo quattro icone per riga e si mantiene con lo sfondo trasparente tutte queste trasparenze comportano un lavoro a detta di google ma anche di altri sviluppatori sul hardware sul software notevole perché l'hardware andrà ad essere stressato per gestire le trasparenze animate di questi elementi tendina tendina che vista così sembra non cambiare più di tanto abbiamo la scheda di google now qua visibile può essere chiusa col solito tasto di chiusura delle notifiche abbiamo le impostazioni data ora visibili in pochi attimi e la scorciatoia per il controllo dei principali sensori reti eccetera viene aggiunto la geolocalizzazione geolocalizzazione è un menu che troviamo anche nel menu impostazioni molto molto comodo praticamente ci viene chiesto quale applicazione ci viene fatto vedere quale applicazione usa la nostra geolocalizzazione la nostra posizione e viene visualizzata in questo menu in questo menu viene anche fatto vedere quale impatto avrà sulla batteria a seconda della precisione eccoci scusate abbiamo attaccato un attimo la fotocamera alla caricabatterie dicevamo geolocalizzazione nuovo menu che ci permette di gestire avere un quadro generale della dell'utilizzo della nostra posizione tra le varie app e poi abbiamo la modalità il tipo di modalità abbiamo alta precisione risparmio della batteria e solo del dispositivo con alta precisione utilizzeremo praticamente tutti i sensori disponibili avremo un consumo più alto di batteria ma avremo anche una precisione un agganciamento dei satelliti molto ma molto superiore risparmio della batteria useremo solo le reti wifi mobili per la stima della posizione cosa imprecisa che sconsigliamo però si risparmierà parecchio la batteria con solo del dispositivo usa solo il gps ma per agganciare un satellite ci impiegherà diverso tempo dato che parliamo di impostazioni andiamo sul menu abbiamo la scorciatoia direttamente sulla tendina qua abbiamo geolocalizzazione come avete visto in precedenza abbiamo anche il nuovo menu stampa Android KitKat infatti gestisce la stampa direttamente con dei driver preinstallati potremmo stampare su una stampante di rete presente sulla nostra rete intranet o attraverso anche stampanti HP abilitate come potete vedere dalla specifica impostazione plugin di HP Print Service altre impostazioni troviamo qualcosa sui piano dati mobile cosa che purtroppo non siamo riusciti ad attivare qua in Italia ci consente di utilizzare un piano dati già preimpostato dal nostro operatore in modo da poter gestire in automatico con Android il piano dati e le nostre soglie una cosa molto interessante speriamo che presto sia disponibile per tutti gli operatori presenti in Italia andiamo a toccare uno degli aspetti più rivoluzionati di Android KitKat e quindi anche di questo Nexus 5 ovvero il dialer questa è la schermata principale del dialer come potete vedere abbiamo questa sorta di incastro di caselline continua a essere purtroppo scusate troppo luminosa l'immagine forse così riuscite a vedere meglio comunque dicevamo così abbiamo una visione generica di tutte le nostre operazioni fatte di recente delle chiamate ricevute delle chiamate effettuate dei contatti frequenti e i preferiti cosa quanto comoda inoltre abbiamo il microfono per l'assistente vocale riconoscimento vocale per cercare luoghi e numeri di telefono in più quando riceveremo una telefonata un numero che non conosciamo non abbiamo in rubrica e Google riuscirà a connettersi se riuscirà a trovare un riscontro ci proporrà già una piccola descrizione per esempio ci contatta Enel non conosciamo il numero Google ci proporrà direttamente nel menu della chiamata Enel come contatto abbiamo il dialer classico in più però abbiamo la ricerca del contatto direttamente tramite il tastierino numerico cosa che mancava finalmente Google ha deciso di inserirlo e per il dialer direi che è tutto abbiamo tutti i contatti è rimasto praticamente identico abbiamo questa letta forse leggermente più grande che ci propone il dove siamo in elenco andiamo a vedere Hangouts Hangouts che ci consente di gestire sia SMS quindi messaggi tramite operatori telefoni che sia attraverso internet come al solito mentre siamo su Hangouts proviamo la tastiera tastiera che sfrutta che sfrutta la dimensione maggiore del display un vero piacere utilizzare tale tastiera abbiamo una qualità del feedback di vibrazione leggermente inferiore rispetto al Nexus 4 è meno forte qua va a gusti io preferivo leggermente quello di Nexus 4 come feedback di vibrazione qua invece abbiamo un feedback leggermente più basso ma assolutamente utilizzabile parliamo proprio di inizie Hangouts adesso consente anche di condividere la posizione come per esempio Whatsapp in maniera semplice adesso stiamo stiamo mandando qualche messaggio inutile a Simone altro articolista di Nexus Lab e questo è quanto per Hangouts quindi una gestione unica dei messaggi sia sms che dei messaggi istantanei su internet andiamo a vedere la navigazione web navigazione web che con chrome raggiunge nuovi livelli andiamo su Nexus Lab adesso siamo sotto guardate praticamente è istantaneo siamo sotto rete wifi possiamo la pagina non è ancora stata caricata è tutto possiamo fare uno scroll e non abbiamo praticamente nessun rallentamento abbiamo una qualità ormai della navigazione da fisso veramente un fulmine a ciel sereno la navigazione su Nexus 5 anche Android KitKat naturalmente contribuisce ad avere un'ottima gestione inoltre io utilizzo sul telefono molto il copia e incolla tramite browser copia e incolla che è più veloce e più preciso voglio incollare e fare un copia e incolla lo faccio in maniera molto semplice in pochi passaggi proviamo ad andare su un sito più pesante tipo la stampa che presenta sempre molte animazioni e molti contenuti molti contenuti anche in pesanti vediamo se riusciamo ad andare nella versione via il sito eccoci qua il sito non mobile come potete vedere anche qui assolutamente velocissimo la navigazione è veramente un fulmine proviamo ad andare su un'altra pagina stessa cosa in 3G anzi in 3G avendo una connessione 3G 4G questo c'è il telefono infatti anche 4G a volte andiamo più veloci in 4G o 3G rispetto alla stessa connessione casalinga quindi potete star tranquilli il lancer un'altra nota che mi è venuta in mente adesso guardando la seconda pagina può gestire anche diverse pagine pagine che vengono limitate a 2 direttamente quando accenderete il device per la prima volta ma se ne possono aggiungere altre per esempio prendendo un'icona e spostandola a destra dove una pagina non esiste automaticamente verrà creata andiamo a rimuovere come potete vedere adesso questa pagina non esiste più perché non c'è più un contenuto che la contiene abbiamo inoltre il Play Store il Play Games già incluso in una home in modo da farci apprezzare direttamente il nuovo applicativo di Google per dedicati ai videogiochi in più abbiamo anche una una fotocamera migliorata migliorata notevolmente ho letto molte critiche rispetto alle foto del Nexus 5 allora rispetto al 4 abbiamo un cambiamento notevole lo stabilizzatore di immagine fa il suo dovere gli 8 megapixel si vedono e soprattutto abbiamo foto più luminose e foto con colori più vivi meno scialbi abbiamo contrasti anche migliori e più fedele naturalmente ci troviamo di fronte a un 8 megapixel ci sono dei camera phone non Nexus che fanno meglio ma il salto prestazionale da questo punto di vista c'è stato ed è notevole unica cosa lo stabilizzatore di immagine non ci consente di fare foto a scatti rapidissimi è un po' più lente a scattare rispetto al passato galleria galleria che possiamo vedere qua di seguito è rimasta identica a Jelly Bean questa è una foto che abbiamo fatto del confronto fotografico è venuta molto bene vi consigliamo poi di vedere il nostro speciale appunto su tale rapporto che avevamo fatto con Nexus 4 Galaxy Nexus altro aspetto che volevo portarvi all'attenzione è la fluidità generale del sistema multitasking adesso abbiamo tutte queste applicazioni aperte avevamo anche Teamweaver connesso adesso si è chiuso Teamweaver che tra l'altro ha ancora qualche problema di incompatibilità o lentezza ma qua è più dovuto ad Android KitKat che ha le prestazioni del device naturalmente devono ancora adattare diverse applicazioni al nuovo software però in generale non abbiamo riscontrato troppi problemi fluidità estrema a volte teniamo anche un paio di giochi in background tipo The Trigger 2 ieri avevamo in background questo gioco e avevamo anche Plants vs Zombie 2 e senza problemi switchavamo da uno all'altro loro venivano tra virgolette congelati e potevamo utilizzarli senza alcun problema passiamo ai due punti li ho tenuti per ultimi apposta partiamo con il meno peggio sinceramente pensavo peggio all'inizio ma alla fine la batteria da 2300 mAh si è dimostrata più che sufficiente per arrivare a sera le nostre giornate sono estreme per esempio adesso sono le 4.20 abbiamo acceso il telefono staccato la caricabatteria alle 5.15 e l'abbiamo utilizzato tantissimo sempre in 3G attivo anche con un po' di navigazione quindi potete capire che adesso arriverà alle 8 9 di sera con e poi si spegnerà qualche ora in più quindi rispetto al Nexus 4 fortunatamente ce l'abbiamo certo Google con i suoi annunci daremo importanza alla batteria la batteria è fondamentale per ora pensa più al peso e alla struttura che alla vera batteria punto invece che ci delude ci delude tanto vi faccio ascoltare per esempio guardate avendo un piccolo bimbo ascoltiamo spesso sta canzoncina e comparto audio comparto audio dalle cuffie siamo nella media niente di che mentre dall'alto parlante di sistema veramente un volume sia abbastanza basso ma soprattutto di una qualità disarmante speravamo che dopo esserci scottati con Nexus 4 Google facesse di meglio invece LG e Google hanno una qualità dell'audio pessima come avete potuto sentire l'altoparlante si trova solo nella griglia di sinistra come vi dicevo all'inizio quindi griglia che non è l'altra non è finta ma ha il microfono mentre il volume è veramente un po' bassino adesso è tutto silenzio ambiente chiuso ok si sente mi potrete dire ma non si sente male vi assicuro che non è molto alto e molto robotico purtroppo questo aspetto speriamo che Google lo migliori naturalmente non è fondamentale però già chi usa il viva voce tipo in auto o per necessità ha bisogno di un volume un po' più alto dall'altoparlante si troverà un po' a disagio con tale tale soluzione direi che abbiamo detto più o meno tutto difficile purtroppo parlare di tutto quando si ha a che fare con uno smartphone per questo vi rimando anche la nostra recensione scritta comunque Google e LG hanno fatto un ottimo prodotto 349 euro per la versione 16 giga è un ottimo prezzo Day One in Italia cosa che non avevamo mai visto infatti siamo un po' spiazzati a avere già il telefono dal tre giorni dopo l'uscita sul Play Store già in mano veramente un ottimo device hardware aggiornato cambio estetico azzeccato qualcuno potrebbe criticare l'abbandono del vetro ma sinceramente noi siamo favorevoli a questo peso limitatissimo una gioia a portarselo in giro Android KitKat promosso anche se non porta chissà quelle novità al sistema veramente fluido Google Now è sempre più centrico però finché è limitato in Italia Google Now rimane solo una schermata delle home da consultare ogni tanto per il meteo per il resto lo consigliamo ovviamente a tutti tra i top di gamma e quello con il rapporto qualità prezzo migliore il display è perfetto quindi che dire sta a voi spero di essere stato esauriente se avete altre domande chiedete pure attraverso i commenti un saluto da Alessandro per Nexus Lab per l'anima Grazie a tutti